dunque io ho appena visto qua su youtube il video di uno psicologo uno psicologo professionista di cui non farò il nome perché non ci tengo a fargli pubblicità ulteriore a quella che ha già il suo canale che è un canale abbastanza già con numeri elevati un video in cui già il titolo mi ha fatto sgranare gli occhi perché già il titolo è un controsenso secondo me e poi guardandolo mi ha confermato quello che era il controsenso del titolo perché molto spesso i titoli li facciamo anche un po a volte anche io stesso clickbait possono essere un po sensazionalistici il titolo era cinque segni per capire se stai bene cioè ve lo ripeto cinque segni e lui poi in questo video dava questi cinque questi cinque criteri per capire se stai bene cioè io non so se voi capite la follia di questa cosa la follia intellettualista e cervellotica di cui molta psicologia purtroppo soffre cinque criteri per capire se stai bene ha la stessa logica come se io io o qualsiasi altro youtuber creator facessi un video per spiegare a te mentre ti sta per venire un orgasmo cinque segnali per capire se tu stai venendo ma che cazzo di ma che cazzo di ragionamento è ma se tu stai venendo senti la goduria dentro di te senti l'orgasmo e se tu stai bene stai bene se tu stai autenticamente bene stai bene cioè capite il controsenso di questa cosa cioè che cazzo vuol dire un video in cui ti spiego cinque criteri per capire se tu stai bene cioè è come dire cinque criteri per spiegarti se tu sei sazio dopo aver mangiato cioè capite ma non sarebbe neanche grave questo video perché è uno dei tanti video di psicologi che secondo me sono sono seghe mentali sono seghe mentali viventi ok ma ripeto c'è una tendenza in molte branche in molte scuole psicologiche ad intellettualizzare tutto quando ovviamente le dottrine psicologiche le scuole psicologiche i concetti psicologici anche più sofisticati sono importanti io non sono per la psicologia quella new age da quattro soldi in cui appunto prendi contatto con te stesso te stessa accetta il dolore e bone finita lì ma neanche l'eccessivo intellettualismo che non serve a un cazzo non serve a un cazzo l'eccessivo intellettualismo cioè cosa c'è di più naturale della sensazione di stare bene come della sensazione di stare ecco è come se si facesse un video tu metti che stai male no sei depresso sei depressa c'è la carogna la rabbia addosso e io ti faccio un video dicendoti io ti do cinque segnali per per farti capire se tu sei incazzato se tu sei incazzato eppure stiamo arrivando a questi livelli stiamo arrivando a questi livelli in certa psicologia segata mentalmente e queste persone cervellotiche dovrebbero insegnare a vivere bene a persone comuni boh chiudo qui se qualcuno di voi ha un commento da fare lo faccia se non ha da fare il commento non lo faccia però veramente rimango basito se tu hai i coglioni girati sei incazzato nero sei incazzata nera io ti faccio un video per spiegare cinque segnali per farti capire se tu sei incazzato non sei incazzata oppure se tu ti stai facendo una sega o ti stai facendo un ditalino e stai per venire io ti faccio un video con cinque segnali per farti capire se stai venendo o no oppure se tu hai sete ti faccio un video con cinque segnali per farti capire se tu hai sete o no basta chiudo qua va